Quello che abbiamo detto in conferenza stampa non è una lotta ma è semplicemente un lavoro a livello sociale sul gioco d'azzardo per cercare di tamponare quanto prima questa piaga che comunque non è da sottovalutare. Quindi andremo a fare un lavoro anche costruttivo con gli imprenditori del settore, anche con coloro che a momenti avranno la scadenza della concessione e si devono attenere al regolamento e quindi probabilmente spostarsi da dove sono. Quindi andremo a fare un lavoro costruttivo affinché lo spostamento sia di meno pericolosità per tutti coloro che sono i gestori di queste sale. I gestori devono aspettarsi multa a raffica? Multa a raffica, se rispettano l'ordinanza no, perché quello sarà in automatico, non è l'ente che lo fa ma ci dobbiamo attenere al sistema smart che è una legge, la legge Baroni del 2019 e faremo a quello, quindi loro se rispettano l'ordinanza nessuno ha verbali.